In Italia l'omicidio stradale è reato. Ieri l'Aula ha detto sì, un primo grande passo, anche se la legge, come rimarca il professore Enzo Martiniello, presidente erpino dell'Associazione Famiglie Vittime della Strada e Sul Lavoro e padre di Marco, ucciso da un giovane ubriaco al volante a Milano nel 2010, non risolve completamente il problema, visto che il numero dei morti su strada continua ad essere elevatissimo in Italia. 3.400 quelli morti nel 2014. Il reato di omicidio stradale è già un passo avanti e qualcosa, diciamo, l'abbiamo ottenuta, però presenta delle criticità e non risolve totalmente il problema, perché quello che noi abbiamo chiesto come Associazione Famiglie Vittime della Strada e Sul Lavoro era di eliminare, almeno per gli omicidi realizzati da persone che guidavano in stato di ubriachezza oppure sotto l'effetto di droghe, di eliminare, almeno per quelli, la possibilità del patteggiamento. E purtroppo non ci è stato concesso questo, lotteremo in seguito per modificare questa legge e per ottenerlo. Perché bisogna tenere presente che il 90% circa delle cause per omicidio stradale si sono concluse tutte con un patteggiamento mediamente tra un anno e un anno e mezzo. Cosa sarebbe cambiato se ci fosse stata questa legge quando è successa la tragedia che ha completamente cambiato la sua vita? Ci fu il rinvio a giudizio. Con il rinvio a giudizio quella persona che ha ucciso Marco sicuramente avrebbe scondato qualche anno di carcere e invece non gli è successo niente. Tutto si è svolto nelle aule di tribunale tra un antirivieni che a distanza di sei anni ancora non è terminato. Grazie a tutti.